A D'Angrigento, innanzi alla Prefettura, hanno manifestato i lavoratori della KSM Vigilanza Privata contro il piano di licenziamenti e si tratta di un esubero di oltre 400 lavoratori su un totale di 1.200 in tutta la Sicilia, annunciato dall'azienda che è il principale istituto di vigilanza privata in Sicilia e su cui si ripercuote un sistema di concorrenza sleale con gare aggiudicate a minor costo, non rispettando le tabelle di settore, riducendo la qualità e la sicurezza del servizio. Alla City Inn, che si è concluso con un incontro con il Prefetto Nicola Diomede, hanno partecipato solo gli agenti liberi dal servizio e ciò per non pregiudicare il normale livello di sicurezza e per non danneggiare l'azienda. Al microfono di Irene Milisenda. Un sitino di protesta davanti alla Prefettura, quali sono le ragioni di questa protesta di oggi? Più che una protesta stiamo manifestando per dare risalto a un'avvertenza che comunque già va da parecchi anni avanti sul fatto di avere garanzie per i lavoratori sulla gare di appalto, dove si perdono pezzi anno per anno perché le gare di appalto vengono sempre giudicate a massimo ribasso, quindi con prezzi che vanno al di sotto di quelle che sono le tabelle ministeriali, quindi per cui è arrivata l'ora di spogliarci ognuno delle nostre cose e cercare di farci sentire per avere la possibilità di regolarizzare questo mercato della vigilanza privata in quanto, insomma, ripeto, le tari vengono giudicate gare al massimo ribasso, addirittura con quasi il 60% del ribasso sulla gara, facendo sì che così il lavoratore della vigilanza privata il costo è medio, è circa di 20 euro l'ora e la giudicano per 13 euro, come è successo per esempio a Catania, all'aeroporto, quindi un sito molto sensibile è stata giudicata una gara con 13 euro o qualche cosa per la vigilanza, è stata bloccata, siamo intervenuti anche come Wiltux siamo intervenuti a livello regionale e questa situazione comunque viene a verificarsi sul fatto che l'azienda ci ha preannunciato, l'azienda quindi KSM, una delle più grosse in Italia, in Sicilia del settore, ci ha preannunciato un esubero di 400 persone in tutto il territorio siciliano e quindi la cosa diventa un po' preoccupante rispetto a quelle che sono le cose. Noi chiediamo regole certe per il settore, per cui invitiamo il prefetto a maggiori controlli per quanto riguarda soprattutto le care pubbliche, perché chiaramente il privato può decidere di appaltare dei servizi di sicurezza a un costo che può essere anche più basso, ma quando parliamo di pubblico stiamo parlando di tribunali, parliamo di siti come quello della Valle dei Templi, non possiamo permettere che il pubblico quasi quasi certifichi la possibilità che un datore di lavoro possa dimezzare i costi delle ore dei lavoratori. Quindi invitiamo il prefetto e chi per lui a volere controllare sia le nuove società che spuntino come funghi continuamente e quindi non si capisce più quante licenze ci siano e che comunque questi rispettano le leggi e il contratto collettivo nazionale del lavoro.